Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPL dove per lavori si segnalano rallentamenti tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze e tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Livorno. Per questi lavori lo svincolo di Montelupo Fiorentino è chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo dal Livorno. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Nord e l'allacciamento con la 11 e tra Calenzano, Sesto Fiorentino ed Aglio. Sempre in A1 sono chiusi per lavori i tratti tra Aglio e Rioveggio in entrambe le direzioni. A Firenze in Viale Amendola chiuso il controviale tra Viaggio 8 e il numero civico 48. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!